Nel 1669 venne fondata la Reale Accademia di Savoia. Ebbene sì, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di accademie, accademie militari, perché quando vi era la monarchia in Italia sotto il regno appunto di Savoia, venne istituito proprio nel 1669 la primissima accademia militare al mondo, cioè che desse ai suoi iscritti, ai suoi allievi, una formazione di alta qualità, che concedesse loro una grande professionalità e quindi una formazione impeccabile da quel punto di vista, nell'ambito militare. Si parla di un primato importante, perché poi dopo la Regia Accademia di Savoia ci sarà poi fondamentalmente solo quella di Modena militare e altri, diciamo così, istituti consimili. Inizialmente erano aperti ai nobili, ai più facoltosi, e poi vennero estesi via via anche ai borghesi e alle persone dei ceti più bassi. Nel 1923 nasce appunto l'Accademia Militare di Modena, che insieme a tutte le altre viene sciolta nel 1943 con la caduta dell'impero fascista. L'Accademia di Modena poi è l'unica che è stata ripristinata successivamente con l'avvento della democrazia ed è attualmente oggi l'unica esistente per l'esercito. Sicuramente per quanto riguarda l'Accademia di Modena, ad oggi offre la formazione anche agli allievi ufficiali dei carabinieri e prevede una formazione biennale assieme all'esercito appunto, mentre gli altri tre anni, su cinque, vengono svolti a Roma. La formazione delle Accademie fondamentalmente si basa su cinque anni, in stile università, dove ottiene una laurea magistrale fondamentalmente in giurisprudenza con qualche altra specializzazione, in parallelo accompagnata con una formazione militare, quindi una specializzazione nell'utilizzo delle armi e delle varie tecniche e procedure di autodifesa e applicazione nei vari contesti urbani e non. Sicuramente sono fonti di prestigio per la nostra nazione che devono continuare ad esistere ed essere valorizzate per sensibilizzare l'opinione pubblica. Detto questo spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.